Sconfitta per la battipagliese nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Audax Cervinara. I bianconeri sono stati battuti per due reti a uno, dicendo così addio alla competizione tricolore. Dopo un primo tempo dominato dagli avellinesi, le zebrette sono riuscite ad uscire allo scoperto nella ripresa trovando la rete della bandiera con di Biase su calcio di rigore, che non è bastata né per vincere la partita né per passare il turno. Va avanti l'Audax Cervinara che nei quarti di finale incontrerà la polisportiva Santa Maria.